La vita politica, la vita politica di Italia è sulla buiura, la vita rossa, il cari libri, 400 euro, le istaglie che hanno partito nella giornata che sono il carattere, sono troppi. La vita rossa, la spesa, 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 il consorso pubblico e garantito gratuitamente a tutti. Sì, mi siete qua, dobbiamo pagare 10 cento euro per trovarsi una macchina su auto con i papietti e poi non arriviamo neanche a salire da una vergogna. Oggi, stamattina, in tutta Italia, i studenti sono stati in piazza per dire basta, per dire basta la speculazione sulla cultura. La cultura, la scuola, l'istruzione è un investimento per uscire dalla crisi. Non si può tagliare sulla cultura, rimaniamoci da fuori, rimaniamoci in futuro.